E' diventato un caso nazionale sulle pagine del Fatto Quotidiano, si legge che il caso della discarica di Bussi e il suo dibattimento in tribunale, conclusosi con l'assoluzione di 19 ex dirigenti della Montedison, accusati di avvelenamento delle acque e la derubricazione da doloso a colposo il reato di disastro ambientale, celerebbe un giro di denaro pari a 3 milioni di euro per comprare la sentenza. I fatti risalgono al 4 dicembre 2014. Sull'occhio del ciclone, come si legge nell'articolo, sarebbero finiti l'allora avvocato dello Stato, Cristina Gerardis, attuale direttore generale della regione Abruzzo, e il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Una confidenza scambiata tra i due, quella sul giro di denaro, riportata dalla Gerardis nel corso di una cena. E' riportata poi dai testimoni presenti. I fatti risalirebbero a due settimane prima della sentenza. Oggi a chiedere chiarezza sono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e gli ambientalisti che portarono alla luce l'intero caso della discarica dei veleni. Depositerò domani mattina per l'esattezza una interpellanza a mia firma per chiedere al governo regionale di riferire in merito ai tre articoli usciti in questi ultimi giorni sul Fatto Quotidiano. Dato che gli articoli parlano anche dei vertici della regione, tirano in ballo i vertici della regione, noi vorremmo capire cosa c'è di vero e cosa c'è di falso. Noi riteniamo che ci siano ormai poche possibilità per niente di dimostrare, di alzare la schiena e metterla dritta. Noi l'abbiamo fatto nel passato, i cittadini su questo sono stati ammirevoli, abbiamo dato un contributo forte, ci siamo presi le responsabilità molto consistenti facendo chiudere i pozzi Sant'Angelo quando ci siamo accorti noi che erano inquinati e gli enti però lo sapevano già. Se facciamo il paragone tra quello che abbiamo fatto noi, i semplici cittadini, attivisti, con quello che stanno o non stanno facendo le istituzioni, il confronto veramente ci lascia la mare in bocca.